Buongiorno qui dagli studi di Sport Italia. Sono le 5 di mattina, ho appena finito la telecronaca del Milan che ha perso 1-0 contro il Bayern dopo una partita comunque ben giocata dal Milan. Milan che è partito senza dei titolari importanti, ha perso Romagnoli per un problema alla caviglia, Suso per un affaticamento, poi ha avuto ancora dei problemi Riccardo Rodriguez quindi non era anche lui della partita. Quindi assenza e Musacchio. Quindi un Milan che ha schierato dunque Donnarumma Calabria, Gabbia e Strinic centrali con a sinistra Teo Hernandez, con Biglia a centrocampo, con Cialanoglu e Borini di fianco a lui, con Castiglieco e Piontek davanti e dietro il debutto di Daniel Maldini. È stato Milan che ha sofferto all'inizio il possesso palla abbastanza sterile, ma strepitoso, strepitoso, spettacolare, devastante, Teo ruotafumante Hernandez. Ha giocato una grande partita, 3 o 4 fughe sulla sinistra irresistibile. Purtroppo nel finale in una di queste, distorsione alla caviglia, è andato in ospedale per i controlli, vedremo qual è la sua situazione poi nelle prossime ore. Quindi peccato perché aveva iniziato in maniera devastante Teo Hernandez. A centrocampo il Milan controllava bene con uno splendido fosforo sbiglia che giocava e catalizzava ogni azione del Milan, che vedeva però le punte un po' poco servite. Però uno dei migliori è stato anche Daniel Maldini. 19 settembre 1954 il debutto del nonno Cesare, 20 gennaio 1985 il debutto di papà Paolo ed è toccato ora al giocatore Daniel debuttare oggi negli Stati Uniti, era il 23 luglio. Ha giocato bene, ha iniziato con intelligenza, senza strafare, sbagliando purtroppo un'occasione non difficile con un colpo che è terminato appena alto, con un tiro d'interno che è terminato appena alto sopra la traversa. Il Milan soffriva ma non troppo ed era pericoloso un'altra volta con un'infuga di Calabria che non trovava Piontek, poco servito nella partita, e Castiglieco generoso come Borini e Cialanoglu all'appuntamento. Ma poi proprio all'ultimo secondo del primo tempo Goretzka, imbucato da un bellissimo passaggio dal centrocampo, sorprendeva Strinic e batteva il portiere incolpevole Donnarumma. Nel secondo tempo il Milan non cambiava i suoi giocatori, teneva in campo fino a quando poi è uscito Maldini ed è entrato Cutrone. Proprio Cutrone nel secondo tempo aveva la grande, grandissima occasione, solo davanti al portiere Ulreich apriva il compasso e c'era dunque la grande occasione sprecata del Milan. Milan che poi alla fine accusava un po' la stanchezza però sul piano dei singoli, Donnarumma poco impegnato, Calabria sontuoso, strepitoso, Calabria contro Davis e contro l'altro che gli veniva contro Comane è stato bravissimo. Come poi del resto anche Biglia, come dicevo, ma anche dietro Gabbia ha giocato una partita molto positiva. Teo Hernandez, strepitoso giocatore da San Siro, devastante. Ordinata la partita è sofferta di Castiglieco, Celanoglu e Borini. Là davanti Piontek poco servito, comunque un Milan che perde 1-0 però la mano di Giampaolo si è già vista. Un Milan che adesso è atteso dalla partita contro il Benfica domenica alle ore 21. Se vi è piaciuto questo video mettete il vostro like, buongiorno a tutti e iscrivetevi al canale YouTube di Carlo Pellegatti.